La normalità è l'eterosessualità. Se l'omosessualità sembra normale è colpa delle trame delle lobby gay internazionali. I tratti somatici di Paola Egonu non rappresentano l'italianità. Sono solamente due delle affermazioni del generale Roberto Vannacci contenute nel libro Il mondo al contrario, ampiamente pubblicizzato nel nostro paese nelle ultime settimane. Sono affermazioni offensive e implicitamente intimidatorie verso categorie di persone solo per il loro modo di essere. Lei, Ministro, ha definito queste ed altre affermazioni farneticazioni e ha anche definite opinioni che screditano l'esercito, la difesa e la Costituzione. Noi l'abbiamo ringraziata pubblicamente per questo. E si è rimesso a valutazioni disciplinari degli organi competenti, salva l'adozione immediata di un provvedimento cautelare di rimozione dal comando dell'Istituto Geografico Militare. Eravamo in agosto. Nel frattempo, mentre il generale Vannacci continua ad inondare i quotidiani di interviste ogni giorno sui temi più disparati dell'attualità pubblica, sulle principali testate, il 3 dicembre si è appreso che è stato nominato Capo di Stato Maggiore delle Forze Operative di terra dell'esercito. Si tratta di un compito non apicale ma di un compito di snodo importante nella catena di comando, di maggior peso rispetto a quello da cui era stato sollevato. Noi siamo a chiedere in che modo il Ministro intenda utilizzare la propria potestà sanzionatoria di Stato ai sensi dell'articolo 1375 e a che punto sia del codice dell'ordinamento militare e a che punto sia la inchiesta interna ormai avviata da diversi mesi. Grazie. In sintesi per riepilogare i fatti, il generale Vannacci non è stato rimosso o avvicendato, l'inchiesta sommaria si è conclusa e si è aperta l'inchiesta sommaria, il generale Vannacci gode di tutti i diritti di difesa previsti, cosa che sarebbe successa anche in assenza di tutto il camore mediatico richiamati. Grazie. Grazie a lei. A facoltà di rieplicare il deputato Maggi, due minuti. Prego. Grazie Presidente. Vede Ministro, lei ci ha dato molte informazioni e ovviamente immagino che sia implicita la risposta che lei non può dire ora come intende esercitare la sua proprietà prototestà sanzionatoria perché ancora deve attendere l'esito di questa inchiesta. Però non ci ha detto se ritiene che questa inchiesta debba essere come noi riteniamo, come io ritengo estremamente rapida perché vede, Ministro, il generale Vannacci è un gran furbacchione. Il generale Vannacci quando fa un'intervista se dice una scemenza sul piano giuridico subito dopo dice ma io sono un militare non sono un esperto di queste cose. E però il giorno successivo troviamo un'altra intervista e con la stessa agilità con cui si nasconde dietro la divisa poi ne esce fuori per tirare fuori altre affermazioni che sono un insulto come lei ha detto per la nostra Costituzione. È quella stessa agilità che usa quando alternativamente idolatra la patria come qualcosa legato al suo sangue che è legato a quello, non ricordo, di Ulisse, di Mazzini, di Garibaldi e nello stesso tempo però ci dice che l'Italia è un posto invivibile a differenza della Russia dove si può tranquillamente passeggiare la sera nei parchi a meno che tu non sia un oppositore del regime che finisce abbelenato. Ecco c'è un partito di maggioranza che quotidianamente, che è la Lega, quotidianamente offre una candidatura al generale Vannacci e il generale Vannacci fa una sorta di reiterazione di queste sue affermazioni, di questo suo comportamento che è irridente nei confronti della Costituzione, della terzietà del proprio incarico, della gerarchia militare. Cosa dovrebbero fare ufficiali magari di grado superiore, alti ufficiali o di grado inferiore a quello di Vannacci che non sono d'accordo con lui? Chiedere di replicare con la stessa evidenza sulla stampa? Lei, Ministro Crosetto, è troppo attento, troppo intelligente politicamente e ha una sensibilità istituzionale che le permette di cogliere il senso eversivo dell'operazione che il generale Vannacci sta facendo. Allora chi tiene davvero alla patria, tiene alla Costituzione e non va dietro questo scimmiottamento dei concetti di patria e scimmiottamento dell'esercito italiano che questo personaggio sta facendo. Per cui se ci sarà occasione di una parola di condanna in più, non solo da parte sua, da parte della Presidente Meloni, questo sarà un servizio che voi renderete alla patria. Grazie. Grazie.